Introdurre forme di accountability all'interno dei processi decisionali pubblici è una delle condizioni essenziali per rendere trasparente l'operato della pubblica amministrazione e consentire così ai cittadini di conoscere, misurare, valutare l'azione pubblica. Per rendere effettivo questo diritto a conoscere però è necessario pubblicare le informazioni sugli obiettivi, i processi, i risultati conseguiti e la pubblica amministrazione per fare questo deve farlo in un modo semplice, fruibile e interpretabile da parte di chi è esterno alla PA. In linea con questo approccio l'Ufficio per il programma di governo, struttura che supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle attività di impulso e coordinamento per l'attuazione del programma di governo, ha avviato a partire dal 2015 un percorso di accountability pubblica per consentire un monitoraggio costante sullo stato di attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati da parte dei Ministeri e per rendere trasparente il processo di riforma e modernizzazione in corso nel nostro Paese. Ne abbiamo parlato con la consigliera Alessandra Gaspare e Laura Menicucci dell'Ufficio per il programma di governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché è importante fornire alla collettività un'informazione adeguata sull'attuazione del programma di governo? Io penso che sia una cosa molto utile per i cittadini avere un punto di accesso dove andare a trovare delle informazioni sull'attuazione del programma e questo perché semplicemente riguarda noi cittadini molto da vicino il programma di governo. In effetti tutte le leggi che vengono, che entrano in vigore, hanno una serie di misure, misure che hanno comunque un impatto sulla collettività o su alcune fasce di popolazione e quindi quando ci sono delle misure che sono immediatamente operative, ossia entrano in vigore contemporaneamente alla legge, quelle misure splicheranno immediatamente i loro effetti. Però ci sono dei casi, e sono anche abbastanza numerosi, in cui il legislatore stesso pone all'interno del testo di legge un riferimento, una previsione a una successiva normazione, una normazione di secondo livello che avviene all'interno delle amministrazioni centrali dello Stato, quindi Ministeri e Presidenza del Consiglio. E questa normazione di secondo livello, in pratica sono i cosiddetti decreti attuativi, si concretizzano principalmente in decreti ministeriali o anche in decrete del Presidente del Consiglio, o anche in decrete del Presidente della Repubblica a seconda della tipologia di contenuto che hanno. È ovvio che per fare un esempio molto noto si può, per esempio, citare gli 80 euro. Gli 80 euro sono una misura che era autoapplicativa, come diciamo noi, cioè entrata in vigore subito con la legge, tant'è vero che un mese dopo l'entrata in vigore della legge, gli 80 euro erano in busta paga dei destinatari. Bonus bebè. Bonus bebè è un'altra misura molto attesa. Il legislatore aveva previsto che tutte le modalità, i criteri, l'ammontare, eccetera, fossero invece stabiliti e demandati quindi ad un decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi si è dovuto attendere questo decreto perché la misura fosse effettivamente concreta, quindi utilizzabile da parte dei soggetti beneficiari. Peraltro anche il tempo che ci vuole per emanare i decreti è un fattore importante. In alcuni casi è proprio il legislatore che pone un giorno, un termine finale entro il quale quel provvedimento deve essere adottato. Ci sono invece dei casi in cui il legislatore non pone limiti temporali all'adozione del provvedimento e quindi l'amministrazione è libera di adottarlo sulla base dei suoi tempi, sulla base delle proprie priorità e anche sulla complessità istruttoria di alcuni provvedimenti. Non ci dimentichiamo che ci sono alcuni decreti attuativi che coinvolgono più amministrazioni oppure che prevedono fasi esterne all'amministrazione competente, che richiedono anche passaggi nelle parti sociali, quindi le conferenze Stato-Regione, le conferenze unificata, oppure pareri di autorità indipendenti o piuttosto che del Consiglio di Stato o concerti di altre amministrazioni. Anzi, in quest'ambito dei concerti, nel 2015, la riforma della pubblica amministrazione ha inserito nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni. In questo modo l'amministrazione che deve rilasciare il concerto ha 30 giorni di tempo per farlo e quindi se non lo fa il decreto può essere adottato ugualmente con una notevole semplificazione del processo e quindi un ristringimento dei tempi istruttori. Quindi è molto intuitivo, il cittadino è interessato a sapere quando un decreto che lo interessa personalmente viene adottato o se è stato adottato oppure no. Quindi per noi dell'ufficio accountability in realtà vuol dire proprio questo, ossia dare conto alla collettività dei decreti che sono stati adottati man mano che vengono adottati. L'ufficio per il programma di governo ha avviato un percorso di innovazione organizzativa e di trasparenza e di accountability sull'attuazione del programma. Quali sono state le tappe e i fattori più rilevanti di questo percorso? Un'attività di monitoraggio può essere svolta in modo più o meno efficace, la funzione di coordinamento può essere esercitata in modo più o meno stringente e noi quattro anni fa abbiamo cercato di dare un segnale di discontinuità col passato proprio su questi due punti e quindi abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni diversificate tra di loro ma convergenti verso un unico obiettivo. L'obiettivo di non essere limitati a una fotografia statica di quello che è il programma di governo e il suo stato di attuazione ma di offrire alla collettività una visione, un concetto più dinamico di attuazione del processo, dei processi attuativi e quindi di attuazione concreta delle riforme e soprattutto di rendere l'ufficio parte attiva anche nei processi attuativi sia supportando i ministeri competenti sia cercando di velocizzare al massimo i processi. Naturalmente sintetizzando al massimo questi interventi si possono classificare in tre filoni. Il primo ovviamente è stato intervenire sull'organizzazione dell'ufficio. L'ufficio è stato riorganizzato ed è diventato una struttura molto snella, molto orientata al compito. È stata inserita una unità organizzativa proprio focalizzata sulla trasparenza all'interno della struttura e in quell'occasione è stata anche fatta un'operazione di restyling del sito che all'epoca era un mini sito dentro governo.it mentre è diventato come oggi un sito del tutto autonomo. Il secondo ambito di intervento è stato forse quello dove abbiamo innovato di più ed è la modalità di raccolta dei dati. In precedenza avveniva in modo molto tradizionale proprio cartaceo di scambi di lettere. Noi lì abbiamo progettato un sistema informativo. Un sistema informativo che consiste in una piattaforma web alla quale accedono contemporaneamente quindi con un lavoro in rete dei ministeri e della presidenza dell'ufficio per il programma di governo. Noi come amministratori di sistema. Naturalmente questo sistema ha portato molti vantaggi. È operativo dal 2015, dalla seconda metà del 2015 e sicuramente abbiamo già notevoli successi. Per esempio per l'ufficio programma di governo ci ha dato la possibilità di avere in tempo reale praticamente gli aggiornamenti che vengono inseriti dai ministeri. Inoltre il sistema ci consente di predisporre statistiche, grafici elaborati che poi possiamo pubblicare sul sito. Anche per i ministeri però ci sono stati dei vantaggi. In particolare bisogna dire che c'è stato anche un impatto sui ministeri di cambiamento di modalità di lavoro perché gli uffici legislativi dei ministeri e gli uffici di gabinetto che sono i nostri referenti hanno dovuto imparare a lavorare in modo interattivo. Sono strutture tradizionalmente abituate a svolgere un lavoro piuttosto autonomo e invece in questo campo si sono adattati a fare questa condivisione di informazioni e di dati anche dei propri processi istruttori. Avendo però quale vantaggio? Il vantaggio non solo di poter disporre al proprio interno di un cruscotto di comando e di governo dei propri processi interni e quindi di una grande utilità, ma anche di poter restringere i tempi istruttori anche per quanto riguarda le relazioni con gli altri ministeri coinvolti nei medesimi processi. C'è una sorta di possibilità di chat tra le amministrazioni, quindi in tempo reale si possono scambiare informazioni. Naturalmente questo ha semplificato molto ciò che avveniva prima anche con lettere telefonate o quant'altro. Le relazioni si sono semplificate. Il terzo filone di attività su cui ci siamo concentrati è rappresentato proprio dal coordinamento. In questo ambito noi predisponiamo delle informative al governo e quindi al presidente e a tutti i ministri sullo stato di attuazione. Lo facciamo in occasione dei consigli dei ministri e la sottosegretaria delegata al programma di governo quindi fa un'informativa all'interno del governo e al presidente sullo stato di attuazione. Quindi una sorta di coordinamento interno al governo. Poi sono state periodicamente e sistematicamente attivate delle conferenze dei capi di gabinetto nelle quali l'autorità politica delegata e le amministrazioni hanno concordato modalità, criteri e soluzioni per cercare di restringere i tempi di attuazione delle riforme e in ultimo l'organizzazione dei tavoli tecnici che noi organizziamo laddove ci siano delle criticità attuative mettendo intorno al tavolo a tutti gli attori previsti dall'istruttoria che risolvono in modo molto efficace queste criticità durante la riunione stessa. Comunque noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo raggiunto ma certamente continuiamo a cercare un miglioramento e quindi stiamo già individuando soprattutto nei confronti della accountability tutti gli spazi di miglioramento sui quali ci stiamo proprio concentrando in questi giorni. Quali sono in concreto le principali iniziative intraprese dall'ufficio per incrementare i livelli di trasparenza e accountability? Le iniziative sono state diverse e sono state rese possibili dai risultati ottenuti rispetto alla qualità e alla rapidità di aggiornamento dei dati sull'attuazione del programma in possesso dell'ufficio. Su un primo versante siamo intervenuti sul versante dell'accountability interna al governo introducendo un aggiornamento sistematico che viene reso dall'autorità politica delegata al presidente del Consiglio e ai ministri in occasione di ciascuna seduta del Consiglio dei Ministri. Questo aggiornamento poi stavolta in una logica di accountability esterna viene anche inserito nel comunicato stampa del Consiglio ed è quindi reso pubblico. Su un altro fronte ci siamo impegnati invece per produrre e diffondere principalmente attraverso il nostro sito web dati e documenti che prima non erano reperibili o che lo erano con una rapidità diversa o che comunque non erano reperibili su un unico portale, su un unico luogo. Ad oggi ad esempio sul sito www.programmagoverno.gov.it possono essere consultati gli elenchi di tutti i provvedimenti attuativi adottati dall'inizio della legislatura suddivisi per governo e un elenco dei provvedimenti adottati tra un Consiglio dei Ministri e l'altro. In entrambi i casi il cittadino o comunque il lettore del sito può consultare il testo del singolo provvedimento mediante un semplice link ipertestuale. Sempre sul sito pubblichiamo periodicamente dei report molto dettagliati di taglio quantitativo che danno conto sia della produzione normativa del governo, quindi decreti legge, decreti legislativi, disegni di legge, sia dell'avanzamento delle principali riforme, incluse quelle riconducibili agli esecutivi precedenti. Inoltre, allegati a questi report, rendiamo consultabili gli elenchi completi di tutti i provvedimenti legislativi di iniziativa governativa. Infine sul sito, sempre diciamo nella stessa logica di favorire la massima diffusione delle informazioni sul programma di governo, produciamo e pubblichiamo una rassegna periodica che descrive, quindi stavolta si tratta di un testo, che descrive anche in modo più qualitativo le principali misure varate dal governo per ciascuna area di policy. L'aver investito molto sulla trasparenza e sull'accountability ha prodotto dei risultati che noi consideriamo positivi. Anzitutto l'ufficio viene riconosciuto come punto di riferimento per i dati sull'attuazione del programma di governo da soggetti istituzionali e non. In secondo luogo, i ministeri vedono i loro dati pubblicati, sono coinvolti nella loro raccolta, sanno che i report vengono predisposti con i dati forniti da loro e ciò ha contribuito ad una loro maggiore responsabilizzazione. Infine, l'aver pubblicato, pubblicare costantemente i dati sui provvedimenti che veramente interessano i singoli cittadini, ne ha stimolato l'interesse e riceviamo quindi talvolta delle richieste da cittadini sullo stato e l'iter di singoli provvedimenti. Naturalmente questi risultati per noi sono confortanti, ma l'interazione e la relazione con il contesto esterno che scaturisce dall'aver immesso sul sito molti più documenti e dati fa sì che ci continuiamo a interrogare su come possiamo fare per migliorare ulteriormente sia la qualità dei dati sia la loro pubblicazione.